Io lo dico subito, sono un fan di Boris e quindi cercherò di contenermi Anch'io Tu vabbè, tu sei per forza che sei perché tu sei uno dei protagonisti Stanis, la Rochelle, mi sembra anche difficile non chiamarti così che ha l'abitudine di dire sempre di tutto molto troppo italiano Boris è tornato dopo dieci anni su Disney Plus adesso non fate più la famosa e imperdibile fiction Gli occhi del cuore ma fate la vita di Gesù vi siete, diciamo così, dati un tono e tu sei un Gesù di 50 anni che già questo vi fa capire come siamo messi guardiamo un attimo la clip di Boris Ho appena parlato con Ellison facciamo una call direttamente lunedì mattina sul set ci devi essere anche tu Ah, io non lo sapevo Non lo sapevi perché l'ha detto a me, d'accordo? E anche un'altra cosa ho saputo che l'algoritmo ha dato un parere positivo sul progetto Cioè l'algoritmo ha dato un parere positivo Senti, ma se si può parlare con quest'algoritmo? Cucino Me lo cucino io No Corinna Cioè l'algoritmo è un sistema di calcoli che noi usiamo per valutare i progetti capito? Pure saccente si diventava mi parli forbito L'algoritmo è un po' il tormentone della serie ed è vero oggi siamo tutti vittime di questo giudice come posso dire tecnologico, impersonale che condiziona le nostre vite L'immenso Corrado Cuzzanti ha detto che lui ha parlato con dei direttori di rete che erano molto meno sensati di algoritmi cioè gli è capitato diciamo nella sua vita L'algoritmo è l'interlocutore con cui Stanis, il mio personaggio che è anche produttore in questa serie deve misurarsi l'algoritmo, le piattaforme le linee editoriali che spesso sono dei pantani di politically correct c'è nella prima puntata una lezione bellissima in cui si spiega che si deve dire bravo e contento e Biascica che è uno dei personaggi più sboccati della serie chiede se può dire a merdu per cui diciamo c'è stata un'evoluzione in realtà secondo me questa serie è meno italiana delle altre perché le prime tre che poi risalgono a 15 anni fa raccontavano e che sono ancora le vedete oggi sì, siamo proprio dei bambini peraltro però lì si raccontava veramente l'Italia era Mediaset e Rai c'era la televisione generalista adesso con l'esplosione delle piattaforme credo che sia la prima volta che si racconta che cosa significa per una persona che scrive o vuole produrre avere come interlocutori le piattaforme e l'algoritmo che non è una cosa che non è un dettaglio da poco nel senso che io ho sempre a cuore e aspetto sempre a braccia aperte a braccia aperte degli autori selvaggi che siano pittori, scrittori nell'audiovisivo ci vogliono più soldi e ho sempre la sensazione che ci sia sempre meno spazio per accogliere e che in qualche modo ci si poi parlo con degli scrittori qui per cui ognuno ha la sua storia ma io ho bisogno che dei ragazzi di 20-25 anni che hanno delle idee selvagge semplifico trovino lo spazio per raccontare le loro storie Boris lo è ancora nonostante siamo sull'uscio della terza età io sono completamente caldo no, no lo è ancora e permettimi di ricordare a proposito di questi scrittori uno che non c'è più che è venuto anche tante volte al nostro programma e qui vogliamo tutti bene e che rimane nel ricordo di tutti con il suo straordinario talento che è Mattia Torre fra l'altro dai tre dal 19 novembre avremo posso dire una cosa su questo è il momento più alto della mia vita è il fatto di avere coprodotto uno degli spettacoli di Mattia che poi sono stati ripresi da Paolo Sorrentino che è 4-5-6 quella è la cosa di cui io vado più fiero della mia vita Mattia noi siamo tutti portatori sani di Mattia e viva Mattia Torre